Fermare il declino della città e ricostruire il suo tessuto economico-sociale. A Molfetta, prima assemblea pubblica per il candidato sindaco alle prossime amministrative 2017, Tommaso Minervini. Quando dice che la città di Molfetta è in declino, che cosa intende? Intendo prendere atto che sta perdendo quote di popolazione, che i giovani intellettuali, professionisti stanno andando via da questa città, che il tessuto politico è disgregato, ancora oggi non riesce a coagolare delle alleanze, a fare delle proposte per il rinnovo amministrativo, ma il fatto che le tasse sono alle stelle in questo comune, che la città è sporca e che quindi c'è una disgregazione sociale che è davanti agli occhi di tutti. Poi ha anche detto che vuole unire la parte positiva di Molfetta. Sì, perché ci sono molti veleni e molte ipotesi di critiche, ma qui bisogna ricostruire un tessuto sociale, economico, politico, che è istituzionale, che riprenda e ridia il senso della fiducia e dell'orgoglio di essere residenti, abitanti, cittadini di questa città. Quali sono le proposte concrete? Intanto di compattare e di presentare con solidità e serenità, appunto in maniera positiva, una grande alleanza. Poi dobbiamo rimettere in sesto il bilancio comunale e ripartire con tutte le opere pubbliche che sono da anni ferme.